Buongiorno, buongiorno del dottore Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Marrakesh in Marocco, bellissima cittadina Marrakesh, se non sei andata mai, vacci, io ci sono stato 5 anni, il quale questa persona, questo signore mi chiede, dottore, ma cosa mi dice tra mistero segreto, il mistero, il famoso mistero di cui tutti parlano è l'ipnosi in generale, poi l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Mi spiega un po' cos'è il mistero, io gli ho raccontato che per me la mia umile opinione è che il mistero e i misteri che tutti bla bla predicano in giro e cercano fuori nello spazio, negli abissi, nel triangolo delle Bermuda, il vero mistero dell'essere umano è qua nel subcosciente, nel pilota automatico, nel nostro genio della famosa lampada di Aladino. E così, anch'io ho letto centinaia, per non dire tantissimi libri sui misteri, quando sono diventato un lettore, perché prima non lo ero, anche se avevo conseguito diverse lauree, non ero un lettore perché mi ripetevo, ho letto tanti libri, ma chi me la fa fare? Perché il mio subconscio associava libro dolore. Ok, poi dopo mi sono svegliato, mi hanno regalato un libricino, da lì è iniziato il mio viaggio del salmone, sono andato alla mamma delle mamme a ritroso come fa il salmone, ho scoperto l'ipnosi delle ipnosi, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola di Los Angeles, Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Michelanghel Garai, miei maestri, miei mentori, miei associati, miei amici per l'eternità. Perché ti racconto ciò? Perché vedo in giro tante persone, tanti che parlano del famoso mistero, dei misteri dell'antico Egitto, dell'antica Grecia, dell'antica Roma, mistero di Marte, mistero dei marziani, mistero di qua, mistero di là. Pochi indagano nel proprio subconscio, nel proprio pilota automatico. Perché? Perché ti posso garantire che la chiave del mistero, di tutti i misteri, sta nella nostra mente. pochi lo afferrano, per non dire pochissimi, perché la maggior parte pensa che si sia già scoperto tutto della nostra mente, del nostro subcosciente. Il che non è vero. Ok? Se prendi 100 persone, anche medici o psicoterapeuti o psicologi di tutto il mondo, quindi esperti di mente o di corpo, 99 non sanno neanche che cos'è la parola ipnosi in generale. O meglio, la conoscono, ma come ipnosi da spettacolo, ipnosi paura, ipnosi da film, l'ipnosi fuffa. Ma la maggior parte, forse una persona su 100, sa che cos'è l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola che serve per guidare il proprio subconscio a trovare la soluzione a ciò che cerchi da anni e l'hai ancora trovata. Purtroppo è così. Perché? Perché anche chi è un luminare della scienza moderna si è fatto condizionare, ipnotizzare, tra virgolette, dai cosiddetti poteri forti della TV. Per cui esiste un pensiero unico e quel pensiero lo devi rispettare. Tutto il resto non conta. I misteri, ragazzi, sono dentro di noi, dentro di te. Ecco perché succedono ogni giorno in tutto il mondo i famosi miracoli della mente. Anche in tutte le razze, culture, religioni, a prescindere, anche tra i laici, tra chi non crede, atei, succedono i miracoli della propria mente. Ho conosciuto direttamente e indirettamente persone a cui gli avevano dato sei mesi di vita, che hanno mollato tutto il proprio stile di vita, se non sono andati in giro nel mondo e c'è stato il miracolo della propria mente. Non hanno usato la parola ipnosi, ma di fatto hanno usato il mistero del proprio subcosciente. Perché non è importante usare le parole ipnosi e compagnia bella per scatenare, declancher dicono in francese, i nostri poteri mentali. E chi pensa che sia soltanto un discorso di poteri della mente, che si fermano soltanto alla mente, non ha capito un H. L'ipnosi, dici, è severa e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, è la tua mente profonda, del tuo subconscio, il tuo pilota automatico, l'88% della tua mente, l'88%, agisce, ascoltami, apri le orecchie, sulla mente, sul corpo e sulla vita, visibile e invisibile, quindi sui comportamenti, sulle abitudini, sui vizi, chiamali come vuoi in tutti i colori, forme, che qualche guru bla bla affibbia ad ogni cosa. Quando il mistero dei misteri è la tua mente. Nel bene aggiungo e nel male. Perché nel bene e nel male? Perché se tu lasci il tuo subconscio, la tua mente al pascolo senza fregartene di nulla, assorbe tutto quello che poteri forti gli trasmettono, dai film ai programmi strappalacrime, alla tv e quindi che succede? Diventi come ciò che vedi, che ascolti, che gusti, che annusi, che tocchi, che immagini, che pensi. Ecco perché spendono i miliardi, i miliardi di dollari o di euro per accaparrarsi i mezzi di comunicazione di massa. Te lo sei chiesto il perché? Se non ci fosse un ritorno, se non ci fossero manipolazioni e condizionamenti, spenderebbero. Allora usa lo stesso sistema per uscirtene. Usa lo stesso sistema per trovare la tua soluzione e non per farti manipolare o condizionare, ok? Ho perso il telecomando. Scusami, facciamo tutto disse in diretta. Per cui il mistero, il famoso mistero, 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 il famoso mistero è che tutti pensano di trovare fuori e in realtà sta dentro di noi. che dire? Se tu hai un problema che non risolvi da diversi anni, oppure il tuo caro che ha da diversi anni che tu riesci a risolvere, prova l'ipnosi d'ICS vera e professionale con la V maiuscola, anche con un solo audio MP3 d'ICS che può fare per te oppure per il tuo caro e risolvi il tuo problema esistenziale, di vita, corporale, chiamalo come vuoi, ok? Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi e autopi pronosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, benessere i pronosi, soluzioni d'ICS del dottor Claudio Saracino e fa share e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. Seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter, benessere i pronosi, soluzioni d'ICS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio amico e amico e amica mia dal dottor Claudio Saracino e alla prossima.